Io rappresento per delega una società di ricchi, quelli che voi odiate a morte per invidia. Noi siamo il miracolo economico, la Fiat, Azzurra, Fellini, Valentino e lei veramente presume di poterci fregare a lungo, guardi, fa ora basta, con voi ci siamo rotte le scatole. Certo, i ricchi sono affamatori, carogni, sfruttatori, assassini, ma basta con questi luoghi comuni cretini. Troia di destra. E allora lei è uno stronzo di sinistra, quella che sto facendo io è una rivoluzione, non proprio ricchi di tutto il mondo, unitevi, ma... Ma a chi vuoi sfruttare, che minchiata dici? Ma che cos'è che vuoi fare, amore? Nove settimane e mezzo, ma ci sporchiamo tutti e non succede niente. Rilasci, tante zitta, credina. Guarda, il comportamento è pazzo, io grido e arrivano i poliziotti, i carabinieri, le guardie di finanza, se tu mi piaci. Se ne ruffoni e incompetenti. Signora, io ci dico, signora, che lei mi rompe la meglia. Troppo facile, carino. Non mi chiami carino, signora, eh. Va bene, non la chiamo carino, bruttino. Mi mettete, non dico dopo tanti anni che io sono con voi, mi permettete di dire una cosa? No. Ma se una volta facendo l'amore tu mi chiamassi, non so, brutta porca, mi piglierebbe un colpo. Guarda, io sto qua solo perché voglio capire chi è questa signora, capetana, generalissima, pescecagna di alta finanza, ok? Ma se si tratta di bottana coi calori e le smanie, io me ne strafotto, io la mando a fare in tuo culo. Turi! Passa una luna turca, no, no, è una luna hawaiana, ma no, questa è una luna di Shanghai. Balla, amore, dai, muoviti con me, luna di Shanghai. asta è una luna turca, no, è un par conveyale. Grazie a tutti.